Oggi farò il poster alternativo dei silenzio degli innocenti. Premetto che non ho trovato immagini ad alta risoluzione, però l'effetto è lo stesso piacevole. Possiamo iniziare con la progettazione. Grazie a tutti. 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 Spero che il poster vi sia piaciuto. Nel caso vi metto qua sopra il link con tutta la playlist di tutti i poster che ho fatto. Vi ricordo sempre che al raggiungimento di 200 iscritti farà un poster speciale sull'attacco dei giganti in versione demenziale. Noi ci vediamo al prossimo video, ma ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, mettere un bel like e commentare se avete qualche proposta da fare. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.